Cosa di scena nelle amministrative di Vicenza, forza e tanda pronta ad appoggiare Francesco Rucco. Immediato commento del candidato di centrodestra, la coalizione unica è più forte. L'asta per il Vicenza calcio va deserto, i francesi restano a guardare e cercano un socio a Vicentino. Ancora un incidente sul tratto chino dell'autostrada, lo scontro tra tre tir, perde la vita un camionista. In seguito è coltellato, accusato un butto fuori della discoteca che ora è indagato per tentato e un uccidio. Crisi ombra, il ministero salta all'incontro, domani i sindacati incontrano l'azienda. Buonasera e ritrovate l'appuntamento con informazioni dal territorio Vicentino. Sono questi titoli ma prima parliamo un po' di noi perché esattamente un anno fa Rete Veneta inaugurava Tg Vicenza che si è andato ad aggiungere alle altre redazioni del gruppo media nord-est presenti in tutto il territorio veneto e in Friuli, Venezia e Giulia. Allora ripercorriamo assieme quest'anno. È passato un anno da quando il Tg Vicenza è entrato nelle vostre case. 365 giorni in cui vi abbiamo raccontato le storie retroscena, i controsensi, le luci e le ombre della città e della provincia berica. E lo abbiamo sempre fatto senza antifronzoli, senza filtri, senza peli sulla lingua, insomma dicendo pane al pane e vino al vino. Un lavoro di squadra il nostro che ci ha coinvolti a tutti i livelli, a cominciare dall'editore, dal direttore, fino ai tecnici e ai giornalisti. Tutti quanti abbiamo vissuto questa avventura con entusiasmo, con passione, con dedizione. Un'avventura che, a dire la verità, poi ci ha regalato anche tante soddisfazioni e dei risultati di audience davvero straordinari. Insomma, ci siete stati vicini e di questo vi ringraziamo. Noi da parte nostra, sin dal primo giorno, siamo stati fedeli alla nostra promessa. Essere vicini ai cittadini. Essere la vostra voce. Essere i vostri occhi. E denunciare dal crack BPV all'inquinamento da FAS, dalle barriere architettoniche agli incroci pericolosi, dalle buche nelle strade al degrado nei quartieri, dai casi di cronaca più scandalosi fino a in retroscena più nascosti della politica. E su questo, sia chiaro, non ci siamo mai tirati indietro perché crediamo, ne siamo convinti, che il ruolo della stampa sia quello di essere il cane da guardia della democrazia e non il cagnolino da salotto del potere. Per questo abbiamo combattuto al vostro fianco le vostre battaglie, quelle piccole e quelle grandi. Abbiamo portato le vostre istanze alle autorità competenti, abbiamo sostenuto le vostre ragioni e non abbiamo mai mollato fino a quando non siamo arrivati a una soluzione, a una risposta, a un risultato concreto. Questo perché siamo convinti che il compito di un telegiornale sia sì informare, raccontare, ma anche e soprattutto portare un contributo critico, costruttivo, avanzare delle proposte, guardare lontano, anticipare i tempi, insomma offrire un punto di vista inedito, anche ironico, ma sempre solido, sincero, onesto, schietto, perché possiate capire che aria tira nel vostro quartiere, nella vostra città. E tutto questo abbiamo cercato di farlo con il vostro aiuto, per voi e con voi. Quindi in occasione di questo anniversario vogliamo essere noi a fare gli auguri a voi e a lasciarvi con una promessa, quella di continuare a restare al vostro fianco e di continuare a darvi voce. Insomma, un anno è un traguardo importante, ma è anche un punto di partenza. Perciò, come diciamo sempre, quando portiamo avanti una sfida, la questione non finisce qui, ma continua. Ed ora una notizia aggiunta poco fa in redazione. Parliamo di un aiuto che ha colpito il mondo dell'imprenditoria. Si è spento, infatti, all'età di 80 anni Pietro Marzotto, figlio del conte Gaetano Marzotto, ultimo di sette fratelli. È stato per 16 anni presidente del gruppo Vicentino che ha sede a Valdagno e vicepresidente, tra l'altro, anche di Confindustria. È stato alla guida degli industriali di Vicenza e anche dell'industria lamiera italiana. Lascia quattro figli. E ora invece andiamo alla politica cittadina. Questa corsa per le amministrative, perché oggi in casa centrodestra si è vissuto un altro colpo di scena. Sentite quale. Spalle al muro. Forza Italia sotto scacco fa l'unica mossa che può fare. Tratta con Francesco Rucco. E questo è il risultato scontato dell'ultimo vertice forzista. Oggi pomeriggio i leader del partito si sono incontrati per decidere quel che già era stabilito dal destino avverso. Certo, non gliene va bene una. Con l'aria condizionata rotta e con le finestre spalancate, il partito anche oggi pratica la specialità della casa. Il candidato congelato. Se prima toccava Fabio Mantovani, adesso finisce in freezer la candidatura di Matteo Tosetto. E viene fissato un termine di 48 ore per trattare con Francesco Rucco. Una mossa formale, perché sostanzialmente Forza Italia è già con l'alfiere delle liste civiche. Noi lo avevamo previsto, lo avevamo anticipato. Se i forzisti corressero da soli, si schianterebbero sul primo turno delle amministrative. A quel punto, al ballottaggio, in piena confusione e contraddizione, o si presenterebbero a Canossa, col capo cosparso di cenere, e chiederebbero a Francesco Rucco di fargli salire sul suo carro, oppure, ancora peggio, stringerebbero un clamoroso patto del Nazareno con Otello Dallarosa. Nell'uno e nell'altro caso, Forza Italia perderebbe la faccia con i suoi stessi elettori. L'ultima chance, non di vincere, ma almeno di non sfasciare il partito, è questa. Compattare subito il centrodestra, rinunciare a un proprio candidato, e raggiungere Lega e Fratelli d'Italia, che con Popolo della Famiglia e noi con l'Italia, già sostengono Francesco Rucco. Forza Italia non ha potuto che fare questa scelta. La situazione era diventata insostenibile. Non c'erano alternative. In questa partita a poker, con la coalizione di centrodestra, Forza Italia ha dovuto chinare la testa, chiudere la partita. Il candidato in pectore, Matteo Tosetto, sorteggiato come si fa con i kamikaze per lanciarsi nella corsa elettorale, era rimasto con una scartina in mano. Un quattro di quadri che aveva tirato su, quando per gioco lo avevamo invitato a scegliere una carta. E già siamo stati profetici. Fin da subito ci siamo permessi di far capire a Forza Italia che non aveva le carte per vincere. Ora finalmente ci darretta e tratta. Ma sia chiaro, la nostra non è stata magia, solo buonsenso, che a volte in politica è stupefacente. E la scelta di trattare proprio con Francesco Rucco è arrivata oggi in occasione del vertice regionale di Forza Italia. Noi all'uscita proprio dal vertice abbiamo contattato il commissario veneto di Forza Italia, Adriano Paroli. Il bene che noi vogliamo al centro-destra, in particolare il fatto che il centro-destra è stato creato da Forza Italia ed esiste per Forza Italia, deve dare la possibilità di tentare, se ci saranno le condizioni programmatiche e non, di ridare a Vicenza una proposta unitaria di centro-destra. Quindi nel giro di pochissimo, quindi tra oggi e domani, insomma al massimo il weekend, ma io credo che tra oggi e domani si provi e si capisca se ci sono le condizioni programmatiche per riproporre un centro-destra unito, allora Forza Italia come ha sempre fatto antepone la possibilità di dare un centro-destra unito al proprio utile interesse che sarebbe quello di andare separatamente. Questo lo sapremo a breve, quindi non è né un andiamo da soli a prescindere, né un ok facciamo il centro-destra. Ci serve ancora alcuni elementi, ma diciamo c'è un'apertura, vediamo se ci sono le condizioni perché si possa fare una proposta unitaria di centro-destra a Vicenza. E dopo la voce di Forza Italia sentiamo proprio quella del diretto interessato, vero Francesco Rucco. Colpo di scena sulle amministrative di Vicenza. Forza Italia ha deciso di trattare trattare con Francesco Rucco. Lei se lo può prendere 48 ore per discutere con Forza Italia? Ma diciamo che i tempi sono stretti perché stiamo già raccogliendo le firme sulle liste e in realtà comunque c'è la disponibilità a confrontarci sul programma e sui progetti per la Vicenza del futuro e riteniamo che sia una buona notizia perché comunque vorrebbe dire ricompattare il centro-destra che questa è la cosa più importante che lo spiegavamo fino all'inizio. Chi la dura la vince, finora è riuscito già a fare un miracolo, ha compattato il centro-destra? Beh, diciamo che in tanti anni nessuno ce l'ha riuscito e devo darmi almeno il merito di averlo ricompattato spiegando che Forza Italia arrivi definitivamente nelle prossime 48 ore. 48 ore per trattare, si aspetta delle richieste particolari da Forza Italia? Ma mi aspetto un approfondimento sul progetto, sul programma, sui punti senza nascondere che la priorità in assoluto sarà su sicurezza e lotta al degrado ma anche altri temi importanti. Altre richieste francamente non mi riguardano perché penso che tutto verrà rimandato dopo le elezioni. Certo che è già una prima vittoria per Francesco Rucco che era partito come candidato delle liste civiche che poi ha conquistato via via Fratelli d'Italia, il Popolo della Famiglia, noi con l'Italia, la Lega e adesso chissà forse anche Forza Italia. Noi siamo sempre stati convinti della bontà di questo progetto abbiamo convinto una ad una tutte le forze civiche e partitiche. Sicuramente la strada è ancora lunga e sarà una battaglia difficile e abbiamo gli avversari molto ostici sul territorio ma non abbiamo paura di confrontarci e di riportare Vicenza deve essere la bella Vicenza di un tempo. E oggi era il giorno tanto atteso dell'asta per il Vicenza a calcio. L'asta è andata deserta erano presenti solamente i francesi che hanno ribadito la loro intenzione di acquisire il lana però sentite. Non possiamo fare tutto da solo come una squadra di calcio noi abbiamo una rifianza calcistica siamo del mondo di calcio. L'ultima speranza di salvare il lana e farlo tornare all'antico splendore che venisse dai francesi si sapeva ormai da settimane ma nessuno si aspettava che nemmeno loro oggi benché gli unici presenti in tribunale si sarebbero fatti avanti. Eccolo l'uomo che da mesi cerca di portare a casa il risultato un imprenditore di successo che ha risollevato il marchio Puma figlio d'arte cresciuto tra un business e l'altro figlio di un presidente sportivo ma a Brest Desjardins e alla sua cordata manca qualcosa. Abbiamo problemi tecnici semplicemente perché siamo stranieri che abbiamo bisogno di un sostegno locale anche per tante cose come la fiscalità io vivo qui da due anni sicuramente che se guardiamo il bando manca qualcosa. Nel bando è necessario dimostrare di aver pagato le tasse in Italia da almeno tre anni da qui l'appello agli imprenditori locali. Io parlo per l'attività locale abbiamo bisogno di essere accompagnati su tanti punti culturale territoriale e anche noi vogliamo prendere l'identità di Vicenza Vicenza italiana noi siamo internazionali e abbiamo bisogno di una base italiana. Giovedì un nuovo incontro con il giudice per portare nuova documentazione e capire se le condizioni del nuovo bando d'asta possono essere più favorevoli a questa cordata. Un bando che con tutta probabilità verrà aperto già da domani perché di fatto oggi l'asta è andata deserta. Un nuovo bando con una base inferiore nella speranza di prendere per i capelli la società prima che finisca in retrocessione. In quel caso le condizioni sarebbero diverse la squadra avrebbe già alle spalle l'ultima partita di campionato contro il Bassano una partita che sui social i tifosi delusi starebbero già boicottando. Siamo alla cronaca con un gravissimo l'incidente è venuto questa mattina lungo la 4 tra i creselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest a perdere la vita è stato un autista. Ennesimo incidente questa mattina sulla A4 tra i caselli di Vicenza Est e Ovest alle 7.30 circa i vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle gallerie in direzione Milano per un tamponamento tra tre mezzi pesanti deceduto un autista i pompieri accorsi dalla sede centrale hanno messo in sicurezza i veicoli e non senza difficoltà ha liberato l'autista purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico del suo M118 ha dovuto dichiarare la morte del conducente che occupava l'ultimo auto articolato illesi gli autisti degli altri due mezzi sul posto la polizia stradale e gli ausiliari dell'autostrada lungo le code che si sono create arrivando anche a 13 km grossi problemi di viabilità a causa dell'uscita obbligatoria al casello di Vicenza Est congestionata tutta la bretella e via Lannessi e la situazione permarrà almeno per l'intera mattinata ed è stata una giornata drammatica quella di ieri 25 aprile per gli amanti del volo sentite 25 aprile maledetto per il parapendio è stata la giornata dei voli della morte Carmine Coppola 58 anni di 90 Vicentina appassionato di volo si è lanciato dal Montelupia ma non è riuscito a governare il parapendio ed è precipitato a Valliona dopo un tentativo disperato di planare in un boschetto non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate e all'arrivo dei soccorsi era già morto nelle stesse ore si è lanciato dal Monte Pau un settantenne di carré che dopo il decollo si è trovato con una vela chiusa da un colpo di vento è caduto da circa tre metri d'altezza si è procurato diverse ferite l'elisoccorso lo ha portato all'ospedale di Vicenza dove si trova ancora oggi ricoverato per fortuna non corre pericoli di vita è un miracolato è addirittura accusato di tentato omicidio pluri aggravato il butta fuori di un locale che è accusato di aver accontellato all'ogoro l'indagine l'indagine era partita quando quel giovane tunisino era arrivato in pronto soccorso a Vicenza con una ferita profonda che dall'orecchio arrivava alla gola un solo centimetro in più e per lui non ci sarebbe stato più nulla da fare un intervento chirurgico in extremis gli ha salvato la vita da lì sono partite le indagini per trovare il colpevole il giovane riesce solo in parte a ricostruire la serata che ha avuto quel tragico epilogo quella notte il 12 febbraio del 2017 insieme ad un amico e alla sua fidanzata erano andati alla discoteca Custom di via Zamenhof in pista avevano avuto un diverbio con un gruppetto di nordafricani che avrebbero molestato la loro amica da qui il buttafuori aveva cacciato tutti e loro avevano ripiegato per un altro locale lì vicino il Cadi Dennis e proprio nel parcheggio di quel locale il tunisino è stato accoltellato un lavoro di un anno e mezzo per visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza sentire testimoni intercettare le telefonate alla fine il colpevole verrà fuori non sono stati i nordafricani a tendere l'agguato al giovane ma bensì il buttafuori della discoteca quest'uomo residente a Vicenza è pregiudicato quella sera ha chiamato con sé il fratello ha inseguito i tre fino al parcheggio del Cadi Dennis per tendere un agguato al tunisino le indagini preliminari sono concluse l'uomo è già stato allontanato dalla discoteca per cui lavorava ma ad oggi è ancora in libertà c'è anche un'azienda vicentina tra le sette indagate per una maxifrode di rame da mezzo milione di euro sta parte dalla guardia di finanza le indagini della guardia di finanza di Brescia su una maxifrode di rame da mezzo milione di euro si allargano a macchia d'olio e arrivano fino a Vicenza dove le fiamme gialle hanno trovato un'azienda operante nel commercio del filo di rame che insieme ad altre sei aziende del nord Italia emetteva fatture false numerose operazioni commerciali erano delle mere finzioni allo scopo di garantire la giustificazione contabile a materiale mai comprato una frode da 60 milioni di euro per l'erario perpetrata tra il 2011 e il 2015 i titolari dell'azienda sono stati tutti denunciati alla procura della Repubblica altra frode fiscale questa volta però a Schio Schio scissione societaria l'azienda trasferisce i suoi beni a una società immobiliare lasciandole un debito milionario con il fisco per questo la procura di Vicenza ha messo sotto inchiesta sette persone con l'accusa di concorso in evasione fiscale l'azienda scledense trasferita poi a Brescia era stata dichiarata fallita un capannone adibito a Moschè il comune però ne ordina la demolizione dentro quel capannone si pregava da una parte e dall'altra venivano stoccati materiali come pneumatici e altri oggetti di scarto destinati all'Africa ma nulla di tutto questo era a norma il comune di Vicenza ha intervenuto mettendo i sigilli allo stabile in zona industriale affittato da un vicentino ad un'associazione culturale islamica africana e ad un africano del Burkina Faso l'amministrazione ha agito con un'ordinanza perché in quell'area sono state violate le norme urbanistiche dovrà essere demolita torniamo ad occuparci della crisi dell'Omba di Torri di Quartosolo domani è in programma un incontro decisivo l'incontro è decisivo domani le delegazioni sindacali ai vertici anzennali di Omba dovranno dare delle risposte ai lavoratori che da inizio anno con l'annuncio dell'azienda metalmeccanica di Torri di Quartosolo di chiudere sono in stato di agitazione sono molte le domande che attendono a una risposta che fino hanno fatto i quattro potenziali acquirenti dell'azienda e a che punto sono le perizie sul valore immobiliare e sugli investimenti commissionati e il commissario nominato dal Tribunale Fallimentare intanto l'incontro previsto al Ministero Saltato si legge per improrogabili impegni personali dell'amministratore Carlo Di Paolo e ora invece in chiusura ci occupiamo di PFAS perché è arrivata la nomina commissariale per l'emergenza PFAS in Veneto il capo del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente Zaglia commissario per l'emergenza ma il Presidente ringraziando e dato il carattere estremamente tecnico dell'incarico ha chiesto che al suo posto vengano nominato Nicola Dell'Acqua che è direttore dell'APA esperto di temi ambientali Nicola Dell'Acqua nel 2017 è stato nominato dalla Regione di Veneto il proprio coordinatore ambiente e salute per i PFAS prima di lasciare le previsioni del tempo io vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21.15 come sempre con Focus in studio questa sera tanti ospiti con Lorenzo Monegato inevitabile parlare di quello che sta accadendo non solo in Regione in vista delle prossime amministrative ma ovviamente a Roma insomma per la scelta del nuovo governo da Vicenza invece però è già davvero tutto io vi ringrazio come sempre per aver scelto l'informazione di Rete Veneta arrivederci le previsioni per domani tratti di sereno più presenti fino alla mattina alternati a nuvolosità irregolare crescente nel corso del pomeriggio dalle ore centrali crescente instabilità con probabilità in aumento di precipitazioni con rovescio temporali inizialmente sulle zone montane in seguito in estensione anche alla pianura in serata temperature minime senza notevoli variazioni massime in calo in montagna stazionari in pianura